come vedi il settore farmaceutico dopo i due anni di pandemia stanno crollando nonostante fosse stanno crollando troppo nonostante fosse prevedibile un enorme calo degli utili ma allora intanto stiamo parlando non del settore farmaceutico in generale ma di quelle aziende coinvolte nella distribuzione e nella creazione dei vaccini che è un'altra roba il farmaceutico è molto più ampio di così quindi come lo vedo io ho notato questa cosa da quando ho iniziato ad investire che ci sono dei settori e in particolare direi forse quello farmaceutico tra tutti perché quello farmaceutico è molto legato anche all'andamento del settore delle biotecnologie da cui ho imparato a stare alla larga non tanto perché non mi piacciono come settori perché non rendono ma perché mi sono reso conto nel tempo che richiedono delle competenze altissime cioè investire in un'azienda farmaceutica vuol dire se vuoi fare le cose fatte bene volevamo fare un esempio facciamo un esempio vi faccio vedere cosa vuol dire investire in un'azienda farmaceutica e farlo bene scegliamo un'azienda farmaceutica Pfizer proprio quella iper vaccinosa va benissimo facciamo Pfizer allora cosa bisogna fare normalmente dunque Pfizer Investor Relations andiamo a prenderci un bel annual report che è quello che contiene più informazioni e prendiamoci l'ultimo annual proviamo questi due capiamo qual è quello che mi interessa di più qui che cavolo è questo ma questa è una versione che sembra compatta allora allora o l'avete scelto voi di farmi fare questa roba dunque dobbiamo semplicemente cercare la sezione che non so per qui che cazzo ho aperto no ma questo è annual review no no è questa allora dobbiamo cercare la sezione in cui sono presenti tutte le varie pipeline le scadenze dei brevetti soprattutto capire sui farmaci più importanti quindi andando avanti quello che bisognerebbe cercare qui dentro vediamo se trovo abbastanza in fretta è ok ce lo mettono subito perfetto prendiamo questo qui per esempio che non so quanto fatturato faccia su qui stiamo vedendo cosa abbiamo detto Pfizer non so questo in lita quanto faccia di fatturato ma scade nel 2025 quindi andiamo a vedere quanto sta facendo questo farmaco che tra un anno passerà ad essere generico e con generico intendo che qualsiasi azienda lo può fare allora bisogna sempre vedere se lo scrivono ok questo farmaco fa al momento qui stiamo parlando di revenue fa un miliardo tra un anno questo miliardo inizia a scomparire e quindi quando mi vado a costruire un modello io mi proietterò che questo in lita nel giro di sei anni grosso modo verrà completamente bruciato a meno che non riescano a fare dei magheggi di rinnovo sulla molecola e passerà completamente al generico vediamo qual è quello che rende di più tipo questo vabbè è già successo qualcosa prendiamone uno medio toh questo qui down 6 per 6 ibrans prendiamo questo ibrans andiamo a vedere la sezione di prima ibrans questo 2027 2028 cioè uno dei farmaci che gli crea più fatturato tra tre anni quattro in giappone quindi boh cioè quanto vale lo potremmo andare a vedere sì infatti quello del vaccino covid ok immaginavo perché da un 70% poteva esserlo quindi questa è la valutazione che bisogna fare e questa è metà questa è metà e bisognerebbe fare questa roba per tutti i farmaci perché perché grosso modo riusciamo a stenderci una sorta di prevedibilità dei flussi di cassa che è quello che ci interessa cioè noi meglio li riusciamo a prevedere meglio è e questa è metà del lavoro l'altra metà del lavoro è trovare la pipeline vediamo se cercando pipeline lo trovo ci sono 33 occorrenze quindi fatemene scorrere un po' R&D ok vedete qui ci sono grosso modo tutto quello cioè tutto quello che hanno in pipeline 112 farmaci in totale questi 112 potrebbero essere dei farmaci già preesistenti che stanno cercando di rinnovare perché magari ti scade un farmaco perché quel principio attivo lì l'hai registrato e nel 2027 ti scade ma tu puoi fare dei magheggi sostanzialmente ve li spiego malissimo però se chiedete a un qualsiasi chimico sicuramente ve lo sa spiegare meglio sostanzialmente riregistrare una seconda versione del principio attivo cambiando leggermente la molecola devi riaffrontarti di nuovo tutto il percorso tutto l'iter e quindi qui dentro potrebbero esserci o varianti di quello che già c'è e questo tendenzialmente non va a proteggere completamente dalla perdita di fatturato ma la riduce un pochino oppure farmaci completamente nuovi verosimilmente quelli che sono in fase il grosso di quelli che sono in fase 1 sono farmaci completamente nuovi e io non ho le competenze per capire questi 41 farmaci se arriveranno alla fine tanto per cominciare e quanto eventualmente mercato potrebbero avere perché qui dentro c'è roba iper sperimentale e c'è roba iper sicura che se effettivamente riesce ad arrivare oltre alla fase 3 cioè è proprio bank così mega soldi questo è come si valuta una compagnia farmaceutica è molto complicato quindi questo è il motivo per cui molto umilmente dico io no io di compagnie farmaceutiche non ne voglio sapere perché è complicato è veramente complicato quindi no compagnie farmaceutiche no anche perché tu magari vedi un'azienda come non lo so qual è stata adesso Novo Nordisk se non ricordo male che ha fatto il farmaco quello per ridurre l'appetito no che cazzo era non me lo ricordo no Novo Nordisk e li 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 vedi una roba del genere no vabbè sì anche Novo Nordisk perfetto tu vedi una cosa del genere e oggi a posteriori tu qua trovi tutti quelli che ti dicono eeeh ma tu come hai fatto a non sapere che quella era da acquistare ma guarda che era ovvio che quella roba avrebbe avuto un sacco di mercato eeeh ok poi cioè ti trovi qui e questa roba qui non la diceva praticamente nessuno quindi non è così semplice per cui oggi tu di fatto vedi sto grafico eeeh niente e quindi eeeh volevi non c'è molto da fare non c'è molto da fare questo è col senno di poi siamo tutti bravissimi però valutare una farmaceutica è estremamente complicato quindi divertitevi se volete provarci accomodatevi ci sono un sacco di ragionamenti interessanti io una volta avevo effettivamente provato per un'azienda intera farmi il lavoro su excel per tutti i farmaci capendo qual era il tasso di abbandono medio del farmaco branded contro il generico però è lunga è veramente un lavoro molto lungo quindi non ne vale la pena soprattutto considerato che questa roba nei grandi fondi viene fatta così aggiornata al secondo mentre voi quando volete iniziare lo fate da zero non si possono comprare le aziende farmaceutiche no certo che si può però è veramente un salto nel buio perché gli altri hanno una conoscenza molto più approfondita di te quindi stai di fatto giocando contro il banco conoscenza molto più